L'Andrangheta è l'unica mafia presente in tutti i continenti, la componente massonica è fondamentale, quella che l'ha tenuta in vita e quella che soprattutto l'ha resa forte, perché mentre Cosa Nostra, che si è affidata lì a Rina, che era uno stupido, un pazzo, ha fatto la guerra allo Stato, e quindi è stato costretto e Rina ha perso, perché non ha fatto altro che attirare l'attenzione con lo Stato, invece l'Andrangheta da sempre ha cercato accordi con l'uomo delle istruzioni, con le forze dell'ordine, con la magistratura, con la politica, con il mondo delle professioni, e questo è stato possibile quando nel 70 hanno avuto la grande intuizione di creare la Santa.